Rieccoci dunque con il video che vi mostrerà come introdurre sim e micro sd all'interno Del Galaxy Note Edge Allora essendo un dispositivo proprio appena uscito dalla scatola ha ancora la pellicola frontale Procediamo alla rimozione della cover Non abbiate timore perchè tanto sono le solite cover di Samsung molto resistenti Quindi non si andranno mai a rompere qualsiasi cosa le facciate Non è mio quindi non provo a piegarla a 90 gradi cioè a 180 gradi Però vi assicuro che l'ho fatto con quella del Samsung Galaxy S2 Quindi già da allora realizzavano cover posteriori molto resistenti Seppure ai tempi in plastica molto più scarenti di quelle di adesso Andiamo a inserire la sim in primo luogo Allora possiamo notare che la disposizione è la medesima In quanto è proprio in soldoni è lo stesso dispositivo rispetto al Galaxy Note 4 Allora andiamo a introdurre la sim Che è nello stesso alloggiamento Intanto continuiamo a scrivere È nello stesso alloggiamento del Note 4 E semplicemente introduciamo la micro SD Nell'alloggiamento per la micro SD Possiamo vedere che la micro SD si inserisce nella parte superiore Mentre invece la sim in questa algra Procediamo allo spocchettamento della batteria Sperando che sia un minimo carica Per vedere almeno insieme la prima accensione Controlliamo sempre i poli della batteria Che siano positivo e negativo Come quelli all'interno della scocca del device Andiamo ad inserirla E c'era un dito di troppo Ecco fatto Semplicemente chiudiamo la cover La scocca posteriore con la cover Verificando di farla aderire bene Su tutti e quattro i lati In quanto è un attimo Salterina Ecco fatto Verifichiamo se la batteria è una minima carica Sì, infatti ha vibrato Adesso ci permettiamo di tirare via la pellicola Solo per un pezzo In quanto il telefono Ribadisco che non è mio È di mio nonno Quindi vorrei lasciare a lui il piacere Notiamo qua intanto subito My Galaxy Note 11 Che figata Avvio Allora il primo avvio Eccolo qua Vabbè Che si arrangi mio nonno Procediamo con il primo avvio Disattiviamo il wifi Procediamo Ho letto e compreso Consenso dei dati Accanto Google Sì Niente Wifi Ah Caccia è vero Non ci fa fare No Non adesso Avanti No Mi è sclicato Fa niente Questo telefono Oh mio Bassi È proprio bello Cazzo Ignora Ignora Ne ve lo farò Tutto dopo Insieme a mio nonno In modo che Impara anche qualcosa Qui intanto c'è la sidebar Il pannello laterale Infatti vediamo Comunque Tutte le caratteristiche Verranno analizzate Chiaramente in In un In un video Relativo Vediamo il telefono Comodissimo Con una mano Tutto si fa Messaggio Qua Ok Metto via Via Com'è che si fa Impostazioni Pure c'è Tutto Schermo Curve Ci si Pannelli Esprimiamo La nostra Personalità Ragazzi Eccola qua La nostra Personalità Annulliamo Tanto È useless Bene Per questo video È tutto Anche se È stato fatto Un po' Diversamente Dal solito Abbiamo inserito La sim Abbiamo inserito La microSD La batteria E abbiamo fatto Un primo avvio Tutti insieme Anche per questo Video è tutto Un saluto Da Marcello Bassi Da forumbike.info E vi invito Come al solito A seguirci Nei canali social Che sono scritti Qua sotto E vi invito E vi invito Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Grazie a tutti